E tu, iscrivetevi al mio canale! Ciao ragazzi, in momento questo è un nuovo video. Oggi voglio parlare di un biberon anticoliche. Io ho preso il Phyllis Avent, l'ho pagato 17,62 euro e niente, volevo parlare di questo biberon perché ho iniziato a dare da bere dell'acqua alla mia bambina e comunque davvero lei lo prende bene gli piace questo biberon anche perché è fatto così, guardate la... guardate il biberon che è fatto proprio e quando fai così esce veramente poca acqua acqua e lei deve succhiare è come se stesse succhiando la tetta e niente, io lo consiglio io ho preso quello più grande 300 mm 300 mm e niente, io lo consiglio comunque ragazzi, provatelo e se vi piace il video e mi piace lasciate un gran like e iscrivetevi al mio canale e vi faccio vedere come gli piace alla mia bambina alla prossima!